Il servizio mensa nelle scuole statali, primarie e materne di Prato è ricominciato in modo regolare. Questa mattina sono stati distribuiti 8.623 pasti, circa 2.000 in meno rispetto allo scorso anno. Intanto, da oltre una settimana a Montemullo il servizio è già in funzione. I bambini hanno imparato tutte le nuove regole, che prevedono il distanziamento per chi usufruisce dei posti nel refettorio e invece di rimanere al proprio posto per gli alunni che consumano il pasto in aula. Per tutti, prima di iniziare a mangiare, un passaggio in bagno per lavarsi le mani. Tocca alle sporzionatrici servire i pasti, aiutate anche dalle maestre, che comunque siedono insieme ai bambini. In generale un po' di callo c'è sia per la crisi economica, perché alcune famiglie preferiscono portare i bambini a casa anche per risparmio, e un pochino anche di preoccupazione, però non c'è un fortissimo abbassamento di numeri. Un avvio regolare che però anche a Montemullo regista problemi per quanto riguarda l'assenza degli alunni cinesi. In questo caso l'assicurazione deve essere attraverso la possibilità di una visita dei medici di medicina generale, rientro sicuro e tranquillo di tutti questi ragazzi che altrimenti potrebbero perdere giorni importanti e un numero importante di lezioni. Intanto i tempi lunghi per avere i risultati dei tamponi impatta anche sul corpo docenti. Si crea un problema proprio sulle sostituzioni, quindi noi abbiamo sempre questa percentuale di classi che sono scoperte da coprire con supplenze.